Delega Nord Piemont Padania, in merito alla pulizia, Corone Sonore. Grazie Presidente. A seguito di segnalazioni da parte di cittadini che hanno trovato diversi sacchi di immondizia rovesciati nel parcheggio di Corso Pastrengo antistante alla lavanderia a vapore la mattina del 17 luglio, giorno della festività patronale di San Lorenzo, con la conseguente visione da parte dei visitatori di una città sporca e trascurata in special modo in un momento di festa. Si interroga l'assessore competente per sapere se corrisponde al vero che l'immondizia sia stata lasciata dai gestori delle cucine mobili che prestano servizio durante le serate di Colonia Sonora, se sia stato approntato dal Comune o dal CDU un piano di pulizia giornaliero nell'area di vita alla manifestazione, vista anche la degradante presenza di rifiuti e bottiglie, perché si sia verificato tutto ciò, se ci saranno sanzioni e se sì a chi e quali provvedimenti si prenderanno per il futuro, visto che la risposta a questa interrogazione sarà data a manifestazione conclusa. Grazie. Prego, se ci sarà giorno. Grazie.